Sì, era in giro? Sì. Penso che puoi farlo con il tuo... Magari troppo muscoli, troppo muscoli. Aspetta, 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 aspetta! Allora, che sera avete avvicinata alla fotografia con un percorso abbastanza strano? Ci puoi raccontare velocemente? Allora, era un po' imbarazzante. All'epoca esisteva Netlog, che era precursore di Facebook, e mi divertivo a fare le foto con la mia migliore amica. Lei le faceva a me, le faceva a lei, così ognuna aveva la foto di copertina più bella, un po' artistica. Ci divertivamo a fare queste foto un po' moda, chiamiamole. Solo che mi sono accorta che più facevo le foto a lei, più mi divertivo a inventarmi sempre le situazioni nuove, mentre farmele fare, sì, era divertente, però finiva lì la cosa. E quindi niente, ho iniziato a pubblicare. Ho appena arrivato Facebook nel 2007-2008 in Italia, ho iniziato a pubblicare queste foto, e fin da subito molte persone le hanno visualizzate, non so con che tipo di passaparola, e ho iniziato a chiedermi di farle anche a loro. E quindi niente, fin da subito ho iniziato a ricevere in casa degli completi sconosciuti e quindi mio padre si ritrovava così con delle ragazze mezzanute che giravano in soggiorno e facevo le foto letteralmente contro un fondale, non un fondale, il muro del soggiorno, spostavo il tavolo di lato e facevo le foto del soggiorno per tipo due anni, fino a che non ho messo da parte abbastanza soldini per comprarmi prima un fondale di carta, poi dopo le luci un po' più carine, una macchina fotografica professionale, praticamente ogni mese mettevo insieme un pezzettino in più, un pezzettino in più, un pezzettino in più, fino a che dopo quattro anni ho un mio studio fotografico, un po' più serio adesso. Inizialmente di fatti curavi concept, trucco, parrucco e anche post produzione, adesso che a volte hai altre persone intorno a te ti manca la fase precedente? Praticamente fino a un anno fa ho sempre fatto tutto io, poi ho conosciuto le mie due ormai, sono parte del mio team, la Chiara Bonacina e la Silvia Mangano, che fanno rispettivamente trucco e capelli, mi sono innamorata di loro perché ovviamente sono delle professioniste e mi permettono di concentrarmi sulla parte fotografica, perché prima tu immagini un'ora per fare il trucco, poi magari mezz'ora per fare i capelli e poi devi arrivare allo scatto e devi decidere anche il vestito, cioè arrivi allo scatto che sei morta, quindi almeno mentre loro fanno il trucco ai capelli, decido il set, lo monto, capisco la luce come voglio che sia e arrivo allo scatto più fresca e ho più attenzione per il dettaglio perché se no arrivi che sei mentalmente stanco non sapi dove guardare, devi guardare la luce, il trucco, il capello è a posto o non è a posto, invece hai delle persone più sul set che ovviamente hai più occhi sul soggetto e riesci a farmi gli errori. Il tuo lavoro ti ha portato sin da giovanissimo anche all'estero a lavorare in America, che tipo di esperienza è stata per te? No, lei non posso dire la giornata, ci sono su queste cose che voi umani non potete capire. Però per cominciare in America se non hai permesso, non puoi scattare da nessuna parte, quindi io me la giocavo tipo ma io sono la studentessa, tipo la polizia ci fermava ogni 5 minuti e diceva almeno ho un progetto scolastico perché sai oggi, no ma non è una cosa professionale, no non vedi siamo tutti ragazzi, io ovviamente ho la fortuna che sono tutte più o meno della mia età, quindi sembriamo tutte abbastanza piccole e tutte le volte riuscivamo a scappare più o meno in tempo, no non si poteva scattare qui davvero non lo sapevamo scusate e scappavamo al set successivo, quindi in realtà è un po' più difficile. Non sempre così, però ci sono certi momenti, dipende ovviamente, a volte era tutto organizzato col permesso e si poteva, altre volte che volevamo andare a scattare letteralmente Times Square, cioè con tutta quella gente come fai chiede il permesso di liberare la zona, è un po' difficile, quindi andavamo lì ci buttavamo, però siamo sempre riuscite tutto sommato e la gente è gentile, anzi si emoziona perché si sente un po' parte, non lo so, del fashion system, quindi stanno lì a guardare, ci dobbiamo spostare, cosa possiamo fare, aiutiamo, quindi in realtà sono anche gentili. Tu hai lavorato tanto anche con i fashion blogger, no? E che rapporto hai con loro? Ovviamente sono stata fortunata allo stesso tempo, quando ho iniziato a farlo io, diciamo che non dico che ho commentato nulla, però non c'erano molte persone che facevano in modo così, chiamiamolo, artigianale, perché comunque ho iniziato veramente, mi costruivo io i miei set, mi facevo tutto da sola, quindi non c'erano molte persone che facevano queste cose. Quando chiaro ho iniziato a pubblicare le mie foto, molte persone hanno iniziato subito a seguirmi perché era una casa un po' nuova, una casa un po' divertente, che avevo avuto la fortuna di essere un po', tipo adesso iniziano a esserci veramente tante persone che cercano di fare... E quindi ovviamente lui dice, chi devo seguire tra tutte queste persone? Invece ho avuto la fortuna che quando l'ho fatto, mi reputo un po', sai come Chiara Ferranica è stata la pioniera, si dice, pioniera dei fashion blogger in Italia, mi reputo questo mood che porto un pochino a pioniere. Ovviamente io parlo alla mia età, cioè di una ragazza giovane che ha iniziato dal nulla, non ovviamente, non pioniere di fotografia o nulla, chiaro e speriamo che fanno uccidere. No, intendo soltanto di persone che partono dal nulla senza studi, ma solo per una passione, quindi senza aiuti esterni, intendo in questo senso. Senti, le donne più morbide e curvi sono una nuova... L'ho appena fotografata, non dire che non... L'ho appena fotografata, bellissime due gemelle. No, infatti, li ho viste. E ti volevo dire che sono anche nuovi modelli ispiratori per la moda, secondo te? Potrebbe esserci spazio, margine? Io sinceramente, adesso non so se dovrei dirlo, sento che sono un po'... Cioè il fatto è che nella moda si debba sempre dire, oh abbiamo usato la modella curvi per il calendario Pirelli, cioè il fatto è che tu lo debba proprio dire e scriverlo. Già vuol dire che ti metti in un piano. Cioè già stai dicendo che è una cosa strana, è una cosa, oh guardate abbiamo fatto una cosa per le modelle curvi, ci stiamo interessando a questa cosa. Cioè fai capire come è una cosa normale, è una cosa che non accetteranno mai. E in un terzo senso lo capisco, perché è innegabile il fatto che i vestiti, soprattutto i vestiti più, chiamiamoli, non so come termine, più moda, quindi meno vestibili, cioè con una vestibilità meno portabile durante il giorno, ma puramente moda, che quindi hanno magari dei volumi pazzeschi, un volume di un vestito, abbiamo distrutto una pianta, un volume su un vestito che rende quasi grossa, chiamiamo grossa una modella magrissima, cioè una ragazza normale sembra un rinoceronte, quindi diciamo che è un po' una necessità, finché i vestiti saranno, i vestiti che vengono utilizzati per i servizi fotografici, tutte queste cose, saranno così complessi, così strutturati, secondo me bisognerà sempre fare indossare delle modelle minute, perché sennò il vestito non esce, e poi tutta la gente si scorda sempre che ufficialmente la modella, ok, ultimamente è diventata, dagli anni avanti in poi è diventata comunque la superstar, quindi ci interessiamo più della modella del vestito, però la modella nasce come l'indossatrice, quindi è letteralmente un manichino, quindi teoricamente è il vestito che deve uscire, e quindi se una modella è tutta curi, sexy e qua di là, guarda caso le modelle sui sexy e curvi le usano per i bikini, che si deve vedere il corpo, no? Fra tutte le campagne pubblicitarie che hai fatto, qual è quella che ti sta più a cuore? Questa è una domanda terribile, tu non sai qua, cioè, mi vuoi proprio uccidere, non vuoi che mi licenzio, ma è la verità, la campagna che preferisco di più è sempre l'ultima che ho fatto, perché è il lavoro più nuovo, e quindi è quello che mi emoziona di più, che ho più voglia di condividere, anche perché se non potessi condividerlo sui social, se non lo facessi sarebbe uguale, perché ho proprio voglia di sapere cosa ne pensa la gente, quindi giuro che la risposta vera è l'ultima che ho fatto, è sempre la mia preferita. Ah ok, va bene. Il mio marito è una quella registrata, ci sono sette persone avanti, manca la Fashion Week, che in realtà mi ha fatto, va bene, va bene. Grazie a tutti.